Anche quest'anno all'interno del perdono a Terranoma Bracciodini riponiamo in accordo con la prologo di Terranoma il contesto d'arte varia che riempirà le strade, i marciapiedi, le piazze e gli spazi sono a vuoti di perdono. Come tutti gli anni il contesto è aperto alle arti circense infatti abbiamo anche degli artisti quest'anno di calibro internazionale alla musica, alla pittura, alla fotografia, alla scultura e da quest'anno abbiamo due novità una è più legata alla moda, ci saranno degli stilisti della scuola di moda e un angolo dedicato ai ghost player che è un fenomeno che prende sempre più campo e che abbiamo proprio per includere all'interno del contesto quindi vi aspettiamo per le strade della nuova a chi vuole avere informazioni può consultare la nostra pagina di Facebook poi presto ci saranno anche le cartine e gli orari degli eventi